Ciao a tutti e benvenuti! La pop star cinese Hang Heng entra nel cast di Transformers 4. Ci vediamo dopo il video. No, è il tuo fratello. E quando l'avete fatto? Rima possibile, poi a Bologna non sei riuscito a trovarti un posto fisso. Eh papà, ora sono tutti mobili i posti. Pitello! Pitello? Sono io. Vieni qua! Vieni qua! Che io ti ammazzo! Tu sei caduta dalle scale? Oppure sei nata proprio in silenzio? Cazzo fai? Oh, i pantaloni! No dai, cazzo però, porca miseria! Drogato! Il fiabeschi Enrico che è tornato dal nord. Il Carmelo sconchiuso che è rimasto nel sud. Non ne tieni un nipote. Ah no! Adottato! Ah, Enrico Flabeschi è adottato, signori. Adottato, adottato! Chilo Curnuto! Ma ha fricato 20 euro! Curnuto! Ma ha fricato 20 euro! No, scherzo! Ciò che conta nella vita è il potere, il denaro. Perché là giù, signori miei, là fuori è la giungla. Han Gang, uno degli idoli pop più noti in Cina e già presente nel cast di So Yang e entra nel cast già stellare di Transformers 4. Gang, dopo Li Bingbing, è il secondo attore cinese già selezionato per questo hollywoodiano progetto. Ad annunciare l'ingresso di questa superstar cinese è proprio Michael Bay. Il ruolo che avrà nel film non è ancora conosciuto, ma il suo ingresso a riprese iniziate lascia immaginare che si tratti di qualcosa di marginale. Le riprese di Transformers 4 sono iniziate lo scorso mese e quelle in Cina si svolgeranno in autunno. Il film interpretato da Mark Wahlberg, Jack Raynor, Sophia Miles e Stanley Tucci uscirà il 27 giugno 2014. E per oggi è tutto, vi consiglio di iscrivervi al nostro canale YouTube se volete restare sempre aggiornati sugli ultimi film in uscita. Ciao e alla prossima!